Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Ande Ercel ha aperto la sua borsa per il Festival di Cannes. La bellissima attrice Ande Ercel, che è stata ospite del Festival di Cannes come ospite di un marchio. Si è parlato molto con i suoi accostamenti molto colorati. I prezzi delle combinazioni realizzate da Ande Ercel erano sorprendenti. Si è appreso che il valore totale delle combinazioni ha raggiunto 815.000 TL. Ande Ercel, che ha raggiunto una vasta base di fan con i suoi personaggi nella serie TV. Ospite del Festival di Cannes come ospite di un brand. Ercel, che è riuscita ad attirare l'attenzione con il suo fisico, si è anche fatta un nome con le sue audaci scelte di abbigliamento. Per l'eleganza di Ande Ercel, che ha attirato l'attenzione con le sue combinazioni di arancio, viola e verde per tre giorni. È stato anche rivelato l'importo speso. Ande Ercel, che preferisce indossare abiti di marchi famosi, ha pagato 90.000 TL per tre abiti. Si è appreso che ha pagato 550.000 TL per i suoi gioielli e 75.000 TL per le sue scarpe. Si è appreso che Ande Ercel ha speso 100.000 TL per i capelli e il trucco. La bella attrice, che pubblica le sue foto sul suo account social, è nota per aver pagato 815.000 TL in totale. Ande Ercel, che è tra gli attori turchi con più follower su Instagram con 30,7 milioni. Ha spesso condiviso le pose che ha dato durante il festival di Cannes sul suo account sui social media. Si è visto che ciascuno dei post di Ercel ha ricevuto più di 2 milioni di mi piace. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Ciao. Ciao.